ciao a tutti un brevissimo video come sapete ogni anno mi piace realizzare un video di fine anno diciamo così in modo da racchiudere tutto quello che è successo e che è accaduto in quest'anno e già lo sto ovviamente preparando perché di cose ne sono accadute veramente veramente tante ovviamente voi siete insieme a me protagonisti di tutto il nostro anno e quindi ho pensato come ho fatto già anche negli anni scorsi di qualche modo prendervi partecipi in modo attivo quest'anno vi chiederò un piccolo sforzo in più naturalmente per chi vorrà partecipare ovvero quello di inviarmi un piccolo video realizzato proprio con il cellulare in maniera molto semplice molto veloce in cui dovrete dire ovviamente un'unica e sola parola che caratterizza un po il mio canale e la nostra community ovvero tanto love quindi non siete obbligati naturalmente a farvi vedere in volto se non volete potete nascondervi dietro un gomitolo oppure nascondervi dietro una vostra creazione dietro l'albero di natale dove volete purché insomma si senta bene chiaro il vostro tanto love quindi registrate con il telefonino naturalmente è meglio la forma orizzontale e non verticale perché poi ovviamente dovrò montarlo nel video quindi ecco unico se vi chiedo di riprendervi in modo orizzontale e possibilmente poi va bene tutto e di inviarmi questo micro video perché appunto tanto love si dice veramente una frazione di secondo all'indirizzo e mail che vi lascio qua sotto questo è il piccolo sforzo che vi chiedo quest'anno chi vorrà partecipare ne sarei molto molto contenta perché appunto spesso quello che mi dite in fiera che quest'anno mi ha fatto molto riflettere è che voi sentite sempre ovviamente la mia voce e io poco la vostra quindi mi piacerebbe racchiudervi in questo video di fine anno insieme insieme poi a tutte le altre cose che sono accadute che vedremo poi nel video finale potete iniziare già da ora di inviarmi i vostri video e vi invito a non andare oltre il 20 dicembre perché poi devo avere ovviamente il tempo per montare tutto quanto ricapitolando piccolo video con il cellulare va benissimo orizzontale se riuscite meglio inviatemelo via email vi rimetto l'indirizzo email se avete qualsiasi problema diciamo tecnico non riuscito che cosa scrivetemi sempre via email io aspetto tanti video naturalmente rinnovo il mio tanto love che è sempre nell'aria soprattutto a Natale e ci vediamo qui sul canale con altri video e tante cose ciao